Galleggiava in acqua, privo di vita, quando un bagnante lo ha ritrovato. Parliamo della carcassa di un cane con una catena al collo. Sicuramente per il bagnante si è trattato di un macrabo ritrovamento nel mare di Marsala, versante sud. Le immagini sono diventate subito virali e hanno fatto il giro dei social. Chissà qual è stata la reale dinamica della sua morte. Povero cagnolino.